Ciao ragazzi a voi schizzo di un nuovo video, oggi siamo qui con un video su UWUFUFU Ho scoperto grazie a un video youtube di Zano, ho detto mi è sembrato bellino, ho detto andiamo a provare L'ho provato, è un bel sito, io ci farei un video, partiamo, ne farò tanti di questi video Partiamo con quale giocatore è il più forte, scopri quale per te il giocatore più forte di calcio in lavorazione Andiamo, io partirei con il giocare, turno 64, in lavorazione penso che siano quelli in attività È solo da scoprire Gavi contro Giorginio, sono in attività, ragazzi, allora Gavi contro Giorginio, Giorginio è un ottimo giocatore ma Gavi ragazzi ha una qualità, è giovanissimo Poi andiamo con Aaron Ramsley, Cristiano Ronaldo Direi Ronaldo, uno dei più forti di sempre, se non, no, il più forte di sempre no, però uno dei più forti di sempre Io non metto al terzo posto Marquinhos contro Ter Stegen, Ter Stegen non mi piace tanto ma forti, andrei su Marquinhos Su Marquinhos, su Marquinhos Kilian Bappé Courtois, Kilian Bappé ragazzi, Kilian Bappé che mostro Sommer Marco Verratti, io andrei su Marcolino Verratti, giocatore, c'è troppo un pista, ottimo Nicola Barrella contro Virg Van Dijk e André su Van Dijk ragazzi Poi André Onala, Lionel Messi, Lionel Messi ovviamente Pedri contro Chesney, Chesney porzione della mia Juventus Che ha vinto tra l'altro ieri la Juve 3 a 2, 3 a 1, 3 al Madrid Ma io andrei di Pedri E Chesney ha fatto una gran partita De Gea contro Martínez, andrei di De Gea, David De Gea Anche se Martínez è diventato l'idolo dopo quello che ha fatto in finale Bastoni contro Ken Ken Kevin De Bruyne contro Donnarumma, KDB, che giocatore KDB Luka Modric vs Tomori, andrei di Luka Modric Alisson contro Leao Alisson è un ottimo fortione, ma ragazzi, Leao Quando Leao è in partita e quando Leao parte in progressione ed è in forma Non lo fermi, palla al piede, non lo fermi Un mostro Sergene Mianco Vestalic contro Alain Alain, Alain tutta la vita Alain tutta la vita Alaba contro Luka Akub Io andrei di Alaba Poi Musiala contro Lewandowski Musiala, ottimo, giovane, grande, giovane, forte Lewandowski, Robert Un'altra 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 Mondo Momo Salah Ma Casemiro ragazzi è un gran giocatore Andiamo di Casemiro Salah forte, ma Casemiro ragazzi Bruno Fernandes vs Usiman Usiman ragazzi, quest'anno è stato spaziale Bruno Fernandes A 10 anni discreti ed anni buoni Il nuovo capitale del Manchester United Andiamo di Usiman, dai Per questa stagione va premiato Bernardo Silva contro Manuel Neuer e Andrei di Manuel Neuer Ottimo, grandissimo portiere Ioris contro Benzema Giacatori che non mi piacciono praticamente tutti e due Per rimettere Benzema Koulibaly vs Gleason Bremer Koulibaly, 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 Koulibaly ha fatto Ma Gleason Bremer Allora, contro i ragazzi ha comportato benissimo E la stagione secondo me è stata Nella difenza del radio Per Koulibaly quest'anno non è andato molto bene Però negli anni scorsi con Napoli Gli ha salvato tante volte le chiappe Perché io metterei Koulibaly Sono più ventino, eh Lorenzo Pellegrini contro Tiago Silva Non c'è storia Non c'è proprio storia Non c'è proprio da parlare Tiago Silva Skriniar contro Martin Odegaard FC Arsenal Martin Odegaard Martin Odegaard Buffon Buffon Ruben Diaz Buffon Buffon Che ha fatto per la Juve Per l'amore che ha dato a questa A quella maglia E qui combatte Perché Dybala contro Blauic Dybala il mio giocatore preferito della Juventus Il mio vero primo giocatore preferito della Juve Quello che sono cresciuto io Ovviamente è del Piero Del Piero Giocatore del Piero Del Piero ragazzi Anche se l'ho vissuto poco 2012 principalmente L'ultimo anno Ma del Piero mi entrava subito nel cuore E ovviamente Dybala poi Il terzo più amato Perché poi c'è Vabbè A parte Buffon Cosi Però poi è arrivato Tevez E mi entrava sul cuore Dybala Sì E Blauic Un giocatore che Personalmente La Juve vuole dare via Ma io Non voglio Io spero Resti un altro anno Contro Dybala Giocatore che amo Non lo so Sono combattuto Por Dybala Ho deciso Por Dybala Andiamo avanti Rudiger contro Kim Rudiger Kim ha fatto una stagione buona Vediamo Al Monaco cosa farà Eder Militao contro Saliba Io quindi andrei di Eder Militao Ottimo difensore Shoot Benning Contro Kepa Shoot Benning Non c'è manco da parlarne Lautaro Martinez Contro Kaji Lautaro Martinez Non c'è manco da parlarne E Alla fine Vara Scheria contro Neymar Vara Scheria può essere quello che vuole Ma Neymar ragazzi È Neymar È Neymar Andiamo con I 16 round Kylian Mbappé contro Marquinhos Kylian Mbappé Luka Modric contro Gavi L'esperienza contro Diciamo La giovanità contro l'esperienza Vince l'esperienza Luka Modric Rudiger Versus Ederson Io metterei Il portiere del Manchester City Ederson Beretti contro Buffon 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 ragazzi Neymar contro Benzema Bella sfida questa Appunto perché Benzema Non mi piace più di tanto Io andrei su Neymar Neymoney Poi andiamo Kevin De Bruyne contro Alaba KTB Leao vs Kane Leao 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 Pedri vs Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Osimel vs Manuel Neuer Manuel Neuer Alain vs Lewandowski Madre santa Madre santa Questo no Alain contro Lewandowski No Lewandowski Non ti sono giocato Non mi dobbiamo fermare Alain Alain ragazzi È devastante Non vince Perché sono già che vince Ma Alain è devastante Casemiro Contro Odegaard Io andrei a mettere Casemiro Van Dijk contro Mateusz Relikt Io vado su Van Dijk Jude Bellingham vs Lautaro Martinez Mi dispiace per Lautaro Ma Jude Bellingham Va a vincere Thiago Silva contro Leo Messi De Gea contro Koulibaly Due giocatori che quest'anno Hanno fatto due stagioni Poco buone De Gea ancora non sta Dove va Tra l'altro È svincolato Koulibaly È andato in Arabia Io Davide Gea È difficile Ed è di Milita Contro Di Bala Io vado a mettere Di Bala Di Amo 8 Buffon contro Haaland Qui c'è Il Buffon ragazzi È fortissimo Ma c'è Una parte di cuore Apparentemente il mio cuore È diviso in due Perché una parte di me Vorrebbe dire Perché una parte di me vorrebbe dire Buffon Perché il giocatore È fortissimo In tutto Una parte di me vorrebbe dire Alan Perché ragazzi Alan è un giocatore Spettacolare È un Cyborg Un mostro Non so come definirlo Il cuore dice Buffon Ma l'altro Il cuore dice Ana Il cuore diviso in due Non so scegliere Non so scegliere Facciamo fare ad Alexa Testa Buffon Croce Alan Alexa Testa Croce Testa Buffon Croce Alan Ho lanciato una moneta Ed è uscito Croce Ha detto Alexa Croce Alan Mi dispiace Cigi Mi dispiace Luca Modric Contro De Gea Andrei di Luca Modric Mi sa che non arriva Nonna fine Maronore contro Van Dijk Andrei di Van Dijk Jude Bellingham Verso Sanders Andrei di Jude Bellingham Ops Kylian Mbappé contro Leo Messi Kylian Mbappé contro Leo Messi Il presente e il futuro Il presente sono Leo Messi Lasciamo fare Mbappé Il presente sono Leo Messi Kylian Mbappé E Erling Brotaland Premiamo il presente e il futuro Leone Messi Di Bara contro Cristiano Ronaldo Non c'è parole Non c'è Paragonia Non c'è distinzione Di nulla Kylian Mbappé contro Neymar Questa è bella ragazzi Questa è bella Vado su KDB E per finire Casemiro contro Leao Io vado su Casemiro Rimangono quattro Haaland contro Ronaldo Doveva arrivare questa sfida Doveva arrivare Haaland ve l'ho già detto ragazzi Ma Ronaldo è Ronaldo Luka Modric Versus Casemiro Luka Modric Kevin De Bruyne contro Lionel Messi Lionel Messi E Benning contro Van Dicke Andrade Bellingham Bellingham ha resistito Ma non lo esisterà qui Leo Messi contro Luka Modric Leo Messi Benningham contro CR7 E Cristiano Ronaldo E qui c'è Il dubbio che attarino tutti Ma non è Vi dico la mia sui due giocatori E poi Della risposta Da una parte c'è Leo Messi Marziano Giocatore con una tecnica fuori dal normale È sicuramente giocatore super tecnico Giocatore fortissimo Veloce Ha una tecnica fuori dal normale Una visione fuori dal normale Ha fatto vincere l'Argentina Praticamente quasi da solo E Mondiale l'Argentina quasi da solo E nulla Però da altra parte c'è Cristiano Ronaldo Giocatore che ha fatto 800 gol Ho avuto anche il piacere di vedere la Juve Giocatore che ha fatto 800 gol Giocatore veramente che Dove lo mettevi mettevi segnava Giocatore spaziale Europeo Ha vinto l'Europeo pure lui Da solo col Portogallo Infortunato Ma ha vinto lui quella finale Troppo forte Io lo so La mia risposta È Cristiano Ronaldo Molti di voi non saranno d'accordo con In generale quelli che ho messo Ma io dico Cristiano Ronaldo È il più forte di Lionel Messi È il più forte Diciamo di quelli di lavorazione Come c'è scritto lì Il più forte Attuali Quelli che giocano Potremmo fare Se c'è I più forti giovani Cioè compriano altre mappe però Perché per me Sono ancora giovani E nulla Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ditemi se volete Altro video su questo sito Casomai Io ne farò altri Non sicuro La prossima sarà sulle Influencer Italiane Detto questo Ci vediamo A un prossimo video Ciao ragazzi Ciao